Musica Potente appara ragazzi di Guavax, l'ho giungato di oggi, sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo pack opening Ebbene si io vi avevo detto che appunto non li avrei più fatti ma l'IA praticamente è mistica Perché è mistica? Perché ha fatto uscire il nuovo pacchetto, quello speciale da 100.000 crediti E io avendo appena vinto il Wager Maze di Mandzukic ho detto e no, e no, e no Mandzukic costa 200.000 crediti e il suo prezzo si è stra abbassato tipo io l'avevo pagato 385.000 crediti Ora ne costa 200.000, no questo perché? Perché appunto sono usciti questi pacchetti Quindi in poche parole l'IA mi farà aprire un pacchetto da 100.000 crediti perché appunto io voglio portarvelo sul canale Ma in più mi ha fatto anche perdere 185.000 crediti perché ho dovuto vendere il Mandzukic pagato 385.000 crediti a 200.000 Quindi mi sembra una cosa un po' poco tattica E poi un'altra cosa, perché non stai vedendo la facecam? Perché ragazzi voi mi avete detto Axel per me sei tu che porti sfortuna Quindi seguite un attimo il ragionamento Se io mi tolgo diciamo dai miei video, tolgo la mia faccia dai miei video Dovrei essere un po' più fortunato e oggi vedremo se questa cosa è vera o meno Comunque prima di iniziare volevo ricordare di passare la FIVA come se sei interessato a comprare i crediti FIVA E poi perché vi caricherò questo pacchetto Perché in questi giorni avrò poco tempo Perché come sappiamo tutti siamo a maggio E a maggio a scuola veramente ti irritano Ti fanno sedere i crimini Mettendoci una verifica al giorno Come anche una o due interrogazioni Quindi ma noi c'è in senso che andiamo Noi siamo pronti per aprire questo pacchetto Voi non vi potete vedere però io non guarderò cosa troverò dentro Quindi aspetterò un attimo Quindi io direi anche di andare Ah no se volete farmi trovare qualcosa mi raccomando mettete un bel mi piace Che ultimamente vi sto vedendo poco carichi ragazzi Perché infatti il video di Mandzukish Beh non dico che ne ha ricevuti pochi Perché comunque 2700 sono stra tanti per me Però rispetto al solito ha avuto una sorta di calo Quindi se potete lasciate già un bel mi piace E noi siamo pronti E poi ecco non so se di questo Team of the Season vi porterò pin palle Ma ve li porterò sicuramente del prossimo Che dovrebbe essere quello della serie A E di quello della serie A magari ve ne faccio uno stra speciale Di cui non avete nemmeno idea Comunque andiamo a schiacciare su si Io chiuderò gli occhi e abbasserò la testa Speriamo di trovare qualcuno qua Qua dai Chiudiamo gli occhi Vediamo se almeno in questo pacchetto riusciremo a trovare qualcuno Ti prego Gli alza lo sguardo Oppla Penze ma no No Oh si Ma vale 10.000 20.000 Beh è uno blu Leno 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 blu Leno blu Oh mio dio 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 Uno blu Sì Finalmente Sì E andiamo E andiamo E andiamo Bene così Facce Oh mio dio No 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 Dove Abbiamo trovato anche i geeks Sì 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 E andiamo E servite Basta ragazzi Tutti i miei pop-up ring saranno senza facecam Oh mio dio Oh mio dio E andiamo E andiamo E andiamo così Ho perso la voce Ho perso la voce Ho perso la voce E l'abbiamo trovato ragazzi Quindi siamo felicissimi Vi voglio Carichissimi Dovete aver messo un bel mi piace Ormai tutti i miei pop-up ring saranno senza facecam Non riesco anche più a parlare E detto questo Io vi saluto E vi dico potente A passi Nel prossimo video Bolla